E' un annuncio che vado ad etichettare come un fulminaccio e sereno quello che Pele, questo personaggio straordinario, la leggenda del calcio giocato per eccellenza, di recente ha fatto su Instagram. Infatti pensate che Pele ha annunciato di avere un tumore al colon e per tale motivo e per tale ragione è stato operato d'urgenza. Lui stesso attraverso Instagram, questo potente mezzo, questo potente socio, ha fatto un annuncio ovviamente in portoghese ma anche in inglese. Lui stesso però ha dichiarato di stare bene, sto bene, andrò a vincere anche questa nuova battaglia che mi si è posta davanti. Insomma, Pele combatterà questa nuova battaglia con le unghie e con i denti, non avrà difficoltà di sorta, cercherà di fare del suo meglio e soprattutto sono convinto che sconfiggerà, ripeto, questa nuova battaglia che purtroppo si è palesata davanti a lui. Sono davvero contento comunque che abbia avuto il coraggio di annunciare questa situazione, vedeva anche, come si dice qui a Roma, tenersi il socio in bocca, invece no. Ha preferito votare il sacco, dire a tutti, guardate, purtroppo ho un tumore al colon, evitando così che magari qualche giornalista possa parlare di lui in senso più negativo. Va bene, detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, questo video ovviamente non può arredere la sua previsi, né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani. Ciao da Ariandro, Narratore Italiano.